Cari ragazzi, ciao a tutti. Quando gli italiani si uniscono, sono capaci di grandi imprese. Questo è il titolo della nostra convention nazionale a Chianciano dall'8 al 11 settembre. Venite, venite, vi aspettiamo e seguiteci in diretta con la nostra web tv per tutti i 4 giorni. Ci sarà l'apertura con Rocco Buttiglione giovedì alle ore 17, poi seguiremo venerdì con tutta la serie di tavole rotonde che entreranno nel merito delle problematiche e delle situazioni. Con l'intervento di Pietra e di Nando Casini di sabato alle ore 17 avremo il clou della nostra manifestazione. Vi ricordo che all'interno delle altre giornate passeranno ministri, passeranno presidenti di associazioni come la Marcegaglia, come il ministro Sacone, tantissimi, tantissimi altri, relatori importanti e fondamentali per la vita di tutti i nostri giorni. Poi passeremo alla domenica con la Santa Messa alle ore 9 e poi la chiusura dei lavori dal nostro segretario nazionale, l'onorevole Lorenzo Centra. Vi aspetto, venite e seguiteci con la nostra web tv. Grazie a tutti.